La priorità non è una fantasia del medico, ma è un atto medico. È il medico che si assume la responsabilità di dire che quel paziente, per quel momento, in quel contesto, che non è sovrapponibile a quello di nessun altro, ha bisogno della visita in quei tempi. L'ultimo colpo per la categoria dei medici di medicina generale, in carenza ormai cronica di organico, è la delibera approvata dalla Regione il 16 dicembre, nemmeno condivisa con l'ordine. Fissa le priorità da indicare in ricetta medica sulla base di sintomi conclamati. Uno schiaffo alla professione per il presidente Domenico Crisara, la delibera varrà a decorrere dal primo di gennaio. C'è un professionista della salute che ha stabilito che quelli devono essere ripetati. Al di là delle giustificazioni e delle questioni amministrative, le mancanze di personale e d'altro, cioè bisogna mettersi in testa che una priorità non è una fantasia. Crisara che oggi sceglie di farsi somministrare pubblicamente la quarta dose per spingere la campagna vaccinale contro il Covid alla luce anche del flop di quella contro l'influenza. Sono drasticamente diminuite le vaccinazioni anti-influenzali e questo è quello che ci preoccupa di più. A Padova si è vaccinato solo il 50% della popolazione che lo scorso anno aveva aderito alla campagna contro l'influenza, non solo. C'è purtroppo un fenomeno non molto edificante che è quello di alcune persone, ma non sono solo alcune, che fanno i tamponi fai da te e dopodiché se sono positivi tacciono tranquillamente e non dicono di esserlo e quindi il contagio non è neanche tanto controllabile. Un 2022 che chiude con numeri importanti, a pesare sul lavoro dei medici denuncia, criserà anche la burocrazia con 84 pratiche disciplinari gestite e oltre 3.000 protocolli emessi per la verifica dell'adempimento all'obbligo vaccinale. Alla fine i provvedimenti di sospensione dell'esercizio della professione saranno 252. Tantissime energie sono state buttate via, buttate letteralmente via in questa attività.